il pifferaio magico c'era una volta una piccola città di nome hamlin i suoi abitanti erano sempre vissuti felici ma da qualche tempo regnava una gran confusione hamlin infatti era stata invasa dai topi non c'era solo qualche topolino nelle cantine ma centinaia di musini sbucavano da ogni angolo si intrufolavano nelle cucine saltavano dalle finestre aperte correvano lungo i tetti delle case i cittadini erano disperati e decisero di rivolgersi al sindaco della città per protestare la città è piena di topi gridavano infuriati ormai ci sono più topi che bambini bisogna trovare al più presto una soluzione il sindaco si affacciò alla finestra cercando di sorridere ma in realtà non sapeva proprio che cosa fare mentre stava cercando un'idea sentì tre leggeri colpetti alla porta aveva una gran paura che fosse un cittadino infuriato posso entrare chiese una strana vocetta avanti rispose il sindaco un po preoccupato entrò un buffo personaggio con un vestito azzurro a righe scarpe con una lunga punta e un cappello con la piuma sono venuto a liberare la città dai topi io possiedo un potere magico con la mia musica posso condurre con me oggetti animali e uomini allora tu sei la mia salvezza esclamò il sindaco contento arrivi proprio al momento giusto se riuscirai davvero far sparire tutti questi topi ti ricompenserò generosamente così uscì dal municipio e si incamminò verso la piazza impugnando il suo piffero magico poi si fermò a pensare come per ricordare una melodia particolare e sotto gli occhi incuriositi di grandi e bambini iniziò a suonare una canzoncina molto allegra seduto vicino a una fontana di pietra immediatamente come per magia un fiume di topolini attratti da quelle notte bizzarre uscì dalle case e invase la piazza saltellavano tutti intorno al pifferaio senza smettere un istante di suonare iniziò a camminare svelto attraversando la città a grandi passi verso il fiume che scorreva poco lontano gli abitanti di hamlin si chiedevano stupiti chi fosse quello mino che incantava con la sua musica persino gli animali tutti correvano nelle strade seguendo quello strano corteo e si arrampicavano sugli alberi per vedere meglio intanto il pifferaio continuava nel cammino seguito da centinaia di topi arrivato al fiume si fermò di colpo sulla riva lasciando che i topi si tuffassero nell'acqua in pochi minuti sparirono tutti come aveva promesso non si trovò più un solo topo in tutta la città il sindaco prendendosi il merito di tutto si ritirò soddisfatto nel municipio all'improvviso come la prima volta si udirono alla porta tre leggeri colpetti era il pifferaio magico buongiorno disse tranquillo il mio compito è finito appena il sindaco lo vide si finse molto sorpreso e rispose posso fare qualcosa per te sono tornato per ritirare il compenso che mi avevate promesso compenso ma ma di che cosa stai parlando esclamò il sindaco io non ti ho promesso proprio un bel niente aveva dato la sua parola d'onore rispose il pifferaio seccato non mi ricordo di averti mai detto questo disse il sindaco imbroglione scoppiando in una fragorosa risata sta molto attento mormorò allora il pifferaio con un viso minaccioso non prenderti gioco di me perché questa volta potrei suonare una melodia molto diversa senza aggiungere altro se ne andò con uno strano sorriso scese nelle vie di hamlin e cominciò ad attraversare la città compasto deciso col suo piffero di legno in mano arrivato nella piazza cominciò una canzoncina allegra diversa dalla prima all'improvviso tutti i bambini ma proprio tutti iniziarono a correre fuori dalle case incantati dalla sua musica e dalle note magiche seguivano il buffomino con le scarpe a punte la piuma sul cappello presto un allegro corteo di centinaia di bambini attraversava la città proprio come era successo con i topolini la musica infatti trascinava i piccoli sempre più lontano attraverso prati e boschi finché giunsero ai piedi di un'immensa montagna il pifferaio subito cambiò melodia e magicamente una porta di pietra cominciò ad aprirsi entrò svelto e tutti lo seguirono soltanto uno di loro era rimasto indietro perché era un po lento ehi pifferaio bambini aspettatemi voglio venire anch'io con voi gridava ma la misteriosa porta di pietra ormai si era chiusa l'unico bambino rimasto a hamlin era davvero triste e si sentiva terribilmente solo senza nessuno con cui giocare il suo unico desiderio era raggiungere gli altri bambini così una mattina senza dire niente a nessuno si allontanò ripercorrendo il sentiero che aveva fatto quel giorno con i suoi amici si era costruito con un bastoncino di legno un piccolo piffero e arrivato di fronte alla grande porta di pietra cominciò a suonare l'allegra melodia del pifferaio che non aveva mai dimenticato a un tratto dall'altra parte della roccia un flauto rispose alla sua musica il bambino ricominciò a suonare e le note del piffero magico risposero ancora la roccia della montagna iniziò a tremare come la prima volta e la grande porta lentamente si aprì tutti i bambini di hamlin uscirono correndo felici sui prati e abbracciarono con gioia il bambino che li aveva salvati non vi dico gli abbracci i baci i salti di gioia dei genitori a hamlin si fece festa per tre giorni e tre notti i bambini però non raccontarono mai dove erano stati e che cosa avevano fatto in montagna il sindaco invece imparò a mantenere le promesse a